Sono passati ormai un paio di mesi, Catania com'è? L'ha conosciuta bene? Quali sono le emergenze e quali saranno le prossime mosse? Quando mi sono insediato ad agosto avevo trovato una guardia di finanza molto efficiente a Catania, lo confermo, e soprattutto ho trovato gente che ha grande voglia di fare, grande impegno e questo è testimoniato dai brillanti risultati ottenuti nel tutto il 2013, che noi speriamo di poter confermare nel 2014 se non addirittura migliorare. Le priorità? Le priorità sono quelle tradizionali, cioè il contrasto all'evasione che rimane una preoccupazione costante per la guardia di finanza, ma sono anche sempre più quello del contrasto alla criminalità organizzata, al contrasto allo spreco di naro pubblico, quindi tutela della spesa pubblica e di tutte le forme con le quali si esplica. E le prossime mosse? Le prossime mosse speriamo a breve di concludere importanti indagini che sono in corso qui a Catania, con la collaborazione che noi forniamo all'autorità giudiziaria, siamo riusciti nel 2013 a concludere brillantemente grandi operazioni di servizio, sicuramente riusciremo a fare altrettanto nel 2014.